Alvia Lischia Street Art International Festival, Salvatore Iacono. Allora, si aprirà ufficialmente domani Lischia Street Art Festival, che quest'anno verterà sull'ambiente e inquinamento. Abbiamo aperto il festival con un grande, grandissimo street artist, che è Tony Gallo, che ieri ha realizzato questo bellissimo murale qui dietro di noi. Lischia Street Art si prefigge di riqualificare, rigenerare le zone periferiche dell'isola e non solo, ma sia in una maniera pubblica sia in maniera privata. Maestro Tony Gallo, cosa rappresenta la sua realizzazione davanti al municipio di Forio? Allora, l'opera che ho rappresentato raffigura l'amore che può esserci tra una persona. E mettiamo caso, in questa raffigurazione c'è un pesce. È talmente grande l'amore che vorrebbe privarsene, quindi portarsela a casa, metterla nel suo acquario, pur piacendoli, è cosciente che va lasciato nel suo posto, quindi nella natura, e lasciato amare un po' da tutti. Diciamo in linea con il tema dell'Ischia Street Art International Festival, con il tema dell'ambiente e dell'inquinamento, una realizzazione che vuole sensibilizzare l'amore verso la natura. Sì, io racconto un po' queste favole, quindi il significato tante volte va dato singolarmente dalle persone. C'è molto di questo qua, ma c'è molto un po' in tutto il mio percorso. My Stories, Toni Gallo, cosa racconta questa mostra di lavori indoor? Allora, qua ho voluto portare un po' le mie giornate, quindi le giornate che vivono i miei soggetti, con diverse espressioni, diciamo che ho cercato di portare un po' tutti i momenti più possibili. Lei racconta una favola, ma i soggetti sono sempre gli stessi o cambiano? I soggetti sono, diciamo che provengono tutti dallo stesso mondo, quindi si assomigliano molto tra di loro, cambiano come cambia l'emozione che vuole trasmettere il quadro. È un'emozione sempre uguale o deve essere interpretata da chi li guarda? È molto interpretativo, questa è una cosa che mi piace molto, lasciare a chi guarda il mio quadro il significato dell'opera proprio. Grazie.